Questa mattina le nuove gli armatori e pescatori pescaresi hanno riconsegnato come annunciato ieri alla Capitaneria di Porto per protesta i libretti e documenti di bordo dopo aver iniziato lo stato di agitazione. Non si ferma così lo sciopero in attesa di capire se e come interverrà il governo. Questa mattina attraverso una nota anche il presidente della regione Marco Marsilio ha espresso la sua solidarietà all'intera categoria. No non si può andare avanti perché con il gasolio a 1 euro e 10 1 euro e 20 andremo in mare per con ricavato pagheremmo solo il gasolio e tutto il resto come facciamo per i dipendenti per le altre spese cioè anti economico non è possibile lavorare così. Le prospettive quali sono se lo stato riesce a trovare qualche modo per aiutarci tipo abbassare le tasse che paghiamo eccetera forse riusciamo a avere ancora un margine per poter provare a sopravvivere, si tratta di sopravvivenza. Se questo non dovesse accadere vuol dire non poter lavorare, non poter lavorare più. Allora questi documenti sono indispensabili per uscire in mare. Quando consegniamo i documenti diciamo che noi non possiamo assolutamente mollare gli ormeggi perché la guardia costiera tiene tutto in mano, libretto dei carburanti, ruolino d'equipaggio e licenza di navigazione. Sì in segno di protesta abbiamo preferito fare così onde evitare di bloccare le strade, roba varia. Non si sa niente qua e vediamo che succede. Ma il problema del porto esiste ancora. C'è sempre l'insabbiamento del porto anche se adesso è stato fatto un canale d'emergenza ma una cosa d'emergenza come fare mareggiate e tornerà a chiudersi insomma.